ciao ragazzi e ciao ragazzi in questo video tutorial voglio mostrarvi come fare questo vestitino che ho trovato uno schema su internet adesso non ricordo se su google o su pinterest non mi ricordo e mi è piaciuto molto e l'ho rifatto però ho fatto delle modifiche perché altrimenti avremmo utilizzato una marea di filato e quindi l'ho modificato leggermente per poter utilizzare un pochino meno di filato e renderlo comunque grazioso come potete vedere anche in questo caso ci sono delle delle balze diciamo chiamiamole così per questo vestito e io l'ho fatto di questa misura perché mi piaceva appunto l'idea del corto su questo modello chiaramente voi siete liberi se vi piace il modello anche lungo di farlo anche lungo o di fare semplicemente il toppettino quindi fare solo la maglietta a me piaceva proprio l'idea del vestitino invece quindi ho preferito fare in questa maniera io sinceramente lungo non lo vedo tanto con le balze perché tende secondo me a ingrossare un po' e quindi non lo consiglio secondo me lungo però ripeto va a piacere se poi uno è mingherlino e quindi gli sta bene qualsiasi cosa può anche permettersi di farlo lungo secondo me ecco diciamo che questa è la motivazione del perché io non ho fatto lungo una cosa che è venuta in mente adesso io ho fatto queste catenelle sempre per la solito per il solito motivo che se in caso dovesse venire un po largo lo potete stringere in questo caso io l'ho fatto giusto quindi anche se non non avessi messo le catenelle non sarebbe cambiato nulla insomma però non si sa mai con i lavori fatti a mano che magari col tempo si lasciano un po' andare quindi sempre meglio prepararsi diciamo prima e fare le catenelle piuttosto che non avere magari più materiale poi quando ci dovesse servire una cosa che appunto mi era in mente adesso intanto che me lo mettevo è che se voi fate le catenelle un po' più lunghe potreste anche metterlo poi e fare in questo modo e quindi legarvelo dietro e avere chiaramente quindi il vestito in questa maniera cosa che anche questo potrebbe essere carina come idea io l'ho fatto corto però appunto l'ho fatta corta però siccome mi è avanzato del materiale anche se poco potrei rifarla un po' più lunga e avere anche la possibilità in caso di metterlo anche in questa maniera che non sarebbe male perché così almeno abbiamo due modi carini perché comunque cambia se noi mettessimo queste un pochettino leggermente cambia anche il modello secondo me ed è anche abbastanza grazioso quindi sicuramente lo farò anche più lungo la catenella in modo da usarlo anche in questa maniera spero che vi piaccia e che me lo facciate sapere nei commenti un grosso bacio e al prossimo tutorial ok allora per fare questo lavoro io come vedete questa è la rimanenza del terzo gomitolone di cable 5 della filati 3 sfere che ho utilizzato appunto per questo tutorial quindi ne ho usati 3 questi gomitoloni sono da 150 grammi l'uno e sono lunghi 315 metri a gomitolone e questo era il colore lilla che è molto molto bello e ho utilizzato l'uncinetto del numero 3 questo è il materiale che ho utilizzato vi lascio al tutorial allora per andare a fare questo lavoro andiamo a mettere su 126 catenelle io ho preso la misura praticamente che parte sopra il seno e tutto il giro praticamente da sopra il seno quindi non è la misura più larga del nostro seno ma sopra il seno che va sotto le ascelle e poi dietro quindi se dovete prendere la vostra misura prendete quella dopo di che 126 catenelle come modificare per la vostra taglia ricordatevi sempre che dove devo essere multiplo di 6 quindi 126 per per farvi capire deve essere in questa maniera 126 diviso 6 viene un numero pieno non 21,5 22,5 23,5 deve essere 21 22 23 insomma che quando è divisibile deve sia un numero pieno senza virgola questo è vuol dire il multiplo di 6 o comunque se voi fate 6 per che ne so 10 60 60 è multiplo di 6 l'importante appunto che sia multiplo di 6 ecco detto questo andiamo a fare le 126 catenelle una volta che avete messo sulle 126 catenelle io in questo caso ne ho messe su poche solo per farvi vedere come cosa andiamo a fare in che modo andiamo a farlo però è come se io avessi su 126 catenelle quindi non cambia nulla quindi una volta che abbiamo messo sulle 126 catenelle andiamo a chiudere a cerchio nella prima nella prima catenella quindi andiamo a chiudere con una maglia bassissima così dopodiché il primo giro quindi andiamo a fare il primo giro e anche il secondo giro andiamo a farlo in questa maniera facciamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta iniziale dopodiché andiamo a lavorare una maglia alta in ogni catenella quindi vado a fare la seconda entro nella prossima catenella vado a fare la terza così chiaramente per 126 maglie e facciamo proprio tutto il giro di maglie alte prossima catenella mi raccomando sempre lavorare le catenelle morbide in modo che quando poi andate a lavorare dentro le maglie alte non si stringano e quindi non che poi se si stringono voi non le vedete e quindi fate meno maglie andiamo a fare tutto il giro in questa maniera ok fatta anche l'ultima maglia alta andiamo nella terza catenella iniziale quindi 1, 2, 3 e chiudiamo il giro con una maglia bassissima secondo giro andiamo appunto a fare come il primo giro quindi facciamo 3 catenelle e andiamo a lavorare una maglia alta in ogni maglia alta sotto quindi maglia alta andiamo nella prossima e lavoriamo una maglia alta andiamo nella prossima e andiamo a fare una maglia alta così per tutto il giro continuiamo per tutto il giro quindi finisco il secondo giro sempre nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima ok questo è il primo e secondo giro adesso vi spiego un attimino il terzo il quinto e il settimo si lavorano nella stessa maniera ok quindi adesso andiamo a vedere il terzo come si lavora allora facciamo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta iniziale dopodiché rientro nello stesso foro dove ho fatto le catenelle entro e lavoro una maglia alta quindi nello stesso foro 2 catenelle 1 2 e sempre nello stesso foro vado a lavorare altre 2 maglie alte quindi una rientro nello stesso foro e vado a fare la seconda quindi ho lavorato 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte nello stesso foro poi faccio 1 2 catenelle prendo il filo sull'uncinetto salto una maglia due maglie e nella terza vado a fare no scusate vado a fare una maglia bassa quindi salto questa salto questa vado nella terza e faccio una maglia bassa di nuovo faccio una 2 catenelle salto due maglie di base una due vedete una due vado nella terza e vado di nuovo a fare quello che abbiamo fatto qua quindi andiamo a fare due maglie alte fatto la prima rientro nello stesso foro e vado a fare la seconda maglia alta 2 catenelle 1 2 prendo il filo sull'uncinetto rientro sempre qui dove ho fatto le due maglie alte e faccio altre due maglie alte una rientro vado a fare la seconda 1 2 catenelle salto 1 2 vado nella terza ve lo faccio vedere meglio magari più vicino 1 2 vado nella terza e faccio una maglia bassa 1 2 catenelle salto 1 2 vado nella terza e vado a fare 2 maglie alte 1 2 2 catenelle e di nuovo vado a fare 2 maglie alte vedete? questo è quello che andiamo a fare per tutto il giro quindi il terzo giro lo vado a finire con una maglia bassissima nella terza catenella iniziale quindi questo è il terzo giro il quarto giro questo era il terzo il quarto andiamo a farlo così camminiamo nel foro quindi andiamo nella prossima maglia alta e lavoriamo una maglia bassissima entro nel foro entro in questo foro qui e faccio una maglia bassissima dopo di che faccio una due tre che è la mia prima maglia alta iniziale entro nel foro e vado a fare 2 maglie alte quindi 2 maglie alte sono queste quindi la prima è già la terza catenella le 3 catenelle e poi una maglia alta 2 catenelle di separazione e 2 maglie alte quindi andiamo a rifare quello che abbiamo fatto sotto dentro però nel foro quindi 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte dentro nel foro poi facciamo 4 catenelle 1 2 3 4 prendo il filo sull'uncinetto salto tutto questo e vado nel foro e faccio 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte ancora 1 2 catenelle rientro e vado a fare le 2 maglie alte 1 2 poi 4 catenelle 1 2 3 4 salto tutto questo e vado dentro nel prossimo foro e vado a rifare di nuovo questo motivo quindi questa cosa andiamo a ripeterla per tutto il quarto giro finisco il quarto giro nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima cammino nel foro e andiamo a fare il quinto giro che è uguale al terzo quindi questo e questo sono uguali in che modo vado a fare sempre 3 catenelle che è la mia prima maglia alta iniziale vado a fare la seconda maglia alta nel foro 2 catenelle di separazione nel foro vado e faccio 2 maglie alte una rientro nel foro e vado a fare la seconda quindi ho fatto 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte in questo caso dobbiamo andare a rifare questo terzo giro che è questo qui è il terzo giro andiamo a rifare questo quindi 2 catenelle una maglia bassa scusate nel foro vado a fare la maglia bassa una 2 catenelle e nel foro vado a lavorare 2 maglie alte una due 2 catenelle di separazione e nello stesso foro vado a fare altre 2 maglie alte quindi una e due dopodiché ancora faccio 2 catenelle una maglia bassa nel foro 1 2 catenelle e andiamo a fare di nuovo il gruppo di 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte sì quindi questo è quello che andiamo a ripetere per tutto il giro chiudo sempre nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima e questo era il quinto giro andiamo a fare il sesto giro camminiamo sempre nel foro che questo è importante farlo in ogni giro e andiamo a fare il sesto giro che è uguale al quarto quindi andiamo a ripetere praticamente il quarto giro il quarto giro era questo questo qua dove abbiamo fatto 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alte iniziale un'altra maglia alta in modo da fare il gruppo di 2 maglie alte 2 catenelle di separazione e di nuovo nel foro 2 maglie alte ok questo giro qua abbiamo fatto 4 catenelle quindi 1 2 3 4 e nel prossimo foro del gruppo di maglie alte andiamo a fare il solito gruppo di 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte andiamo avanti così per tutto il giro del sesto giro che è uguale appunto al quarto giro chiudiamo sempre nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima camminiamo sempre nel foro con maglie bassissime dopodiché andiamo a fare il settimo giro che è uguale al terzo e al quinto quindi andiamo a fare questo andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta iniziale entro nel foro vado a fare la seconda 1 2 catenelle entro nel foro e vado a fare 2 maglie alte 1 e 2 ok 2 catenelle 1 2 e andiamo di nuovo a fare la maglia bassa nel foro 1 2 e poi andiamo di nuovo a fare il gruppo di maglie alte quindi questo andiamo a ripeterlo per tutto il giro e poi andiamo a fare il giro a fare il giro